Io ritengo questo governo, ma non lo dico perché sta scritto in nessuna parte perché io debba attaccare la Meloni, non faccio parte di partiti dell'opposizione, però un governo deboli con i forti, forte con i deboli, si vede anche dal comportamento vile, responsabile politicamente della carneficina Gaza, appunto, che ha assunto da diverse settimane la madre cristiana, donna, che tace di fatto di fronte a una strage epocale di bambini, come quella che appunto viene commessa dall'esercito israeliano a Gaza e in Cisjordania, ma soprattutto la pochezza, l'irrilevanza, l'ipocresia e proprio la pavidità del governo si vede su una vicenda che io ho già più di una volta ricordato, che è quella della tassazione degli extra profitti delle banche, che loro signori hanno messo in relazione proprio con una problematica enorme, che è anche la problematica del calo anagrafico e del calo demografico, scusate. Perché vi dico questo? Perché una delle cause principali di queste tragedie è l'impossibilità per molte coppie di mettere su una casa, di comprare una casa, affitti alle stelle, mutui sempre più cari, dovuti anche al costo del denaro, quindi tante famiglie posticipano la prima gravidanza, è così, proprio perché è complicato, e quindi i figli si fanno sempre più tardi. Dato che i figli si fanno sempre più tardi, ovviamente se ne fanno meno, è chiaro. Anche quindi il calo, ripeto, delle nascite ha mille cause diverse, ma una di queste è, senz'altro, l'impossibilità per molte coppie di comprarsi una casa, per i costi alle stelle. Agosto scorso, la Meloni e Salvini hanno rivendicato questa misura, la tassazione sugli extra profitti, mettendoli in relazione addirittura con le famiglie che non riescono a pagare il mutuo. La Meloni disse, abbiamo approvato diverse misure importanti, la più importante è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche, tassazione agli extra profitti delle banche che hanno fatto di utili nell'ultimo anno 43 miliardi di euro, quasi il doppio della legge finanziaria che si sta approvando in questi giorni. Le risorse che arriveranno da questa tassazione, ha detto la Meloni, andranno a finanziare le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che stanno vivendo un momento di difficoltà per l'alto costo del denaro. Salvini è stato addirittura più preciso il giorno prima, quando disse, parole del ministro Salvini, il ministro Giorgetti ha portato in Consiglio dei Ministri una norma di equità sociale, che è un prelievo sugli extra profitti delle banche limitato al 2023. Tutti gli introiti andranno a due voci, aiuti per i mutui prima casa, quindi proprio per le coppie che devono mettere su famiglie, in tempi diversi degli attuali e taglio delle tasse. L'innalzamento dei tassi voluto dalla BCE ha portato in innalzamento del costo del denaro per famiglie e imprese. Non c'è stato un altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori che hanno depositi su conti correnti. Ha ragione. Quindi in questo gap si verrà a contare un 40% di prelievo degli extra profitti multimiliardari delle banche. Non entriamo nel merito delle cifre, ma basta guardare gli utili del primo semestre 2023 delle banche per capire che non stiamo parlando di qualche manciata di milioni, ma si può ipotizzare qualche miliardo. Cioè miliardi che hanno dichiarato, come dichiarano su tutto, sull'immigrazione, su progetti futuri, sul piano Mattei senza risolvere niente, ma neanche senza risolvere, senza affrontare, senza approvare leggi, misure, provvedimenti specifici, non fanno niente, chiacchierano sui giornali, se ne devono rendere conto. In primis, coloro che li sostengono, perché non è possibile che chi vota Fratelli d'Italia si trasformi in tifoso. Cioè i partiti politici, il sostegno è un partito politico, non può essere il sostegno di un tifoso, una squadra di calcio che salvo rare eccezioni, penso, Emilio Fede sia stato uno dei pochi che ha cambiato tifo calcistico, resta lo stesso per tutta la vita. No, non è possibile, vedo che nessuno contesta di questi elettori, o meglio, pochi. Fratelli d'Italia perché? Perché credete all'annuncite, credete appunto ai telegiornali, guardate che è diventato il Tg1, l'Istituto Luce, credete a queste balle qui. Quindi andiamo sullo specifico dei provvedimenti, mi dite un provvedimento corposo, sostanzioso, a tutela delle famiglie, a tutela delle giovani coppie appunto per mettere su casa e poi mettere su famiglie per affrontare il calo della natalità. Vi rendete conto che questa tassazione annunciata più volte è legata a, parola di Salvini e Meloni, anche al tema della natalità, di fatto al tema della prima casa, quindi anche al tema della natalità, non ha portato neanche un euro nelle casse dello Stato perché, su pressioni del sistema finanziario e anche di Forza Italia, Salvini e Meloni se la sono fatta addosso, hanno fatto marcia indietro e hanno permesso la trasformazione di questa tassazione, questo prelievo forzoso agli extraprofitti delle banche in rafforzamento volontario da parte delle banche stesse e il proprio patrimonio. Cioè tu mi devi dare totte miliardi, li puoi di fatto questi miliardi destinare nel 2023, poi vedremo magari nel 2024, nel 2025, li trasformeranno in dividendi perché non sappiamo quel che avverrà nei prossimi anni, li trasformate in un sostegno volontario da parte vostra al patrimonio della banca stessa, cioè i quattrini che dovete dare a me e che io ho dichiarato che li avremmo utilizzati per rafforzare, appunto per dare una mano alle famiglie e alle imprese, in particolare per dare una mano alle famiglie, per mettere su casa, primo mutuo, prima casa, questi soldi i manager delle banche li hanno presi e li hanno versati nelle banche stesse per rafforzare il patrimonio. Cioè ma perché non vi indignate su una roba del genere? Com'è possibile continuare appunto a difendere l'indifendibile? Qual è il meccanismo? Avete paura di dover ammettere a voi stessi di aver sbagliato? Prima lo fate e meglio è. Prima lo fate e meglio è. Ma soprattutto un militante, un sostenitore, che ripeto, legittimamente sostiene un partito e che pretende il rispetto delle promesse elettorali, migliora la qualità del partito stesso. Cioè io sono dell'idea che l'elettore tifoso sia la migliore garanzia per il partito politico di poter continuare, reiterare nel nulla, non rispettare le misure annunciate, le promesse in campagna elettorale. Tanto non succede niente perché quelli non sono nostri militanti che rompono le palle su determinate cose che gli abbiamo detto che avremmo fatto. No, sono diventati tifosi. Ci applaudono sempre, pure se ci mettiamo l'impegno, come magari un tifoso o una squadra di calci, ci mette l'impegno, perdi 3-0, bravi, bravi. Cioè non è possibile questo meccanismo. Vi prego unite i pezzi, pensate ai dati drammatici che ci sono anche dal punto di vista demografico in tutta Europa, soprattutto in Italia, perché non vi è un paese che vive una problematica così importante rispetto al calo delle nascite come l'Italia. E poi pensate alla politica estera, i miliardi in Ucraina, perché oggi non possono ammettere che la Russia sta per vincere la guerra e l'Ucraina sta fallendo, non lo possono ammettere perché si può dare le elezioni europee, questo è il tema, perché vogliono dare i soldi all'Ucraina per non dover ammettere prima degli europei il proprio fallimento. Pensate ai miliardi che sono stati buttati in una guerra che si sarebbe potuta fermare molto molto prima, ma pensate ai miliardi dovunque, pensate alle grandi opere inutili, pensate a tutto questo e mettetele in relazione alla più grande tragedia del nostro paese, appunto il calo delle nascite, la più grande tragedia che mette in pericolo l'esistenza stessa nei prossimi anni o quantomeno un'esistenza corposa stessa del popolo italiano nei prossimi anni, sono nazionalisti, che fino hanno fatto questi nazionisti, fanno i nazionalisti e poi stanno zitti su rispetto a queste cose, però fanno l'applauso a Musk, ma non hanno neanche il coraggio di portare avanti quella misura sulla tassazione degli extra profitti che a detta loro avrebbe permesso di recuperare totte miliardi di euro e destinarli a quelle coppie che hanno bisogno di un sostegno per metterci a casa e dunque anche per fare un figlio. Questo è quanto e buona giornata a tutti e condividete.